È compito della SIP non solo occuparsi degli aspetti sanitari che riguardano il benessere del bambino, ma anche affrontare con determinazione le questioni sociali che stanno minando il profilo demografico della nostra popolazione, a cominciare dal grosso problema della denatalità. A dirlo è Anna Maria Stajano, presidente della SIP a margine del convegno Aspetti Medici e Sociali dell'età pediatrica in Italia, svoltosi presso l'Accademia Nazionale dei Lincei. Purtroppo abbiamo un grosso problema di pochi figli, pochi genitori, ridotta popolazione italiana nel futuro. Quindi dobbiamo attuare subito delle politiche sociali che possano originare questo grosso, grande problema della denatalità che sta minando proprio le basi della popolazione italiana, perché abbiamo visto come non solo il numero dei figli denati per madre si sia ridotto, ma ancora abbiamo visto come si stia riducendo la fertilità, la fecondità delle delle donne e come ci sia questa denatalità che aumenta anno dopo anno. Anche durante la pandemia c'è stato ancora un significativo decremento della curva della natalità. Cambio al vertice della Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza. Gabriella Pozzobon ha passato il testimone della Presidenza ad Armando Grossi. Continueremo il lavoro svolto negli anni precedenti da Gabriella Pozzobon, afferma il neopresidente. Contiamo però di allargare il nostro campo di azione anche su condizioni che classicamente non vengono trattate da una società scientifica. Nello statuto infatti abbiamo deciso di occuparci di una definizione allargata di adolescenza che comprenda anche il giovane adulto, un'età che finisce a 24 anni. Davremmo, tra virgolette, la vision, la pretesa di poter fare qualcosa nell'ambito della transizione della malattia cronica di insorgenza pediatrica. Nel senso che esiste purtroppo una barriera tra quella che è la medicina dell'età evolutiva e quella che è la medicina dell'adulto. Tanti pazienti che da bambini hanno insorgenza di patologie che poi verranno mantenute e trasferite nell'età adulta, se trovano da bambini un case manager, da adulto, tutti se lo trovino. Essere informati e aiutati non solleva i genitori di bambini disabili dalle proprie responsabilità o dal proprio dolore, ma aiuta moltissimo. In Italia abbiamo tante leggi che in gran parte tutelano la disabilità, ma il problema è conoscerle e saperle mettere in atto. Da qui l'idea di realizzare una guida in grado di informare e formare non solo le famiglie, ma tutti gli operatori che ruotano intorno alla disabilità, a partire dai medici. A dirlo è Marina Emati, membro SIPs, presentando, includendo 360, la prima guida pratica intersocietaria sulla tutela della disabilità promossa da SIPs e sostenuta da SIP. Abbiamo pensato, abbiamo immaginato un percorso che la famiglia fa da quando il bambino nasce e che viene scoperta, appunto viene diagnosticata una disabilità, che è una patologia che poi chiaramente permane per tutta la vita, perché è uno stato che la famiglia si porterà sempre dietro e cambia tutto, cambia veramente il vivere, il quotidiano. E pertanto abbiamo pensato di fare questa guida cercando di aiutare, di dare delle indicazioni ai genitori, soprattutto su cosa fare. Iniziando per esempio ad andare dal pediatra, a chi rivolgersi, chi può aiutarti all'inizio, chi può spiegarti che cosa ti sta accadendo, perché chiaramente io ho una cosa a cui ho preciso sempre, che quando c'è una disabilità in famiglia, la famiglia diventa tutta disabile, tra virgolette, nel senso che chiaramente tutte quelle che sono le abitudini e le programmazioni che si fanno per il futuro devono essere adeguate sicuramente alla persona che è più fragile. L'Italia è tra i paesi al mondo dove si nasce meglio con tassi di mortalità neonatale bassissimi. Lo ha affermato Fabio Mosca, past president della SIN, in apertura del 27esimo congresso nazionale. Certo, ha aggiunto, esistono ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto per ridurre il divario tra i tassi di mortalità neonatale al nord e centro Italia rispetto al sud Italia e alle isole, ma la rete dei nostri punti nascita è tra le migliori in Europa. La SIN ha appena portato a termine un importante progetto di standard organizzativi per l'assistenza per il Natale, coordinati da Rinaldo Zanini, che ha visto la partecipazione delle principali società scientifiche dell'area materno-infantile, con l'obiettivo di revisionare ed aggiornare gli standard organizzativi dell'assistenza per il Natale in termini di risorse umane, strutturali e tecnologiche, con un approccio finalizzato prioritariamente alla maggior sicurezza possibile della diade madre neonato. Il 40% di tutte le malattie rare, secondo il registro nazionale delle malattie rare dell'ISS, colpisce l'età pediatrica e in questo ambito la parola chiave è condivisione. Dobbiamo condividere conoscenze, informazioni scientifiche, dati dei pazienti con il consenso informato e la possibilità di avviare attività di squadra con i colleghi a livello interdisciplinare e multidisciplinare. Dobbiamo condividere il know-how dalla sospetto diagnostico alle più raffinate terapie. A dirlo è Domenica Taruscio, direttrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell'ISS. Una malattia rara è pochissimo conosciuta, poi addirittura ci sono quelle rarissime, quindi non tutti, anzi pochissimi sono gli esperti a livello nazionale, internazionale. In questa modalità di condivisione anche attraverso i mezzi di e-health, per esempio, attraverso piattaforme tecnologiche innovative, si muovono le conoscenze, quindi si facilita proprio la condivisione dei dati senza far spostare il paziente da una città all'altra, da un paese all'altro, addirittura da un continente all'altro. Quante sono le malattie rare senza diagnosi? Sono circa il 20% di tutte le malattie rare, quindi sono un numero notevole e proprio per far fronte a questo abbiamo proprio creato, istituito un network internazionale per lo studio delle malattie senza diagnosi. Questo network è costituito dalla libera associazione di ricercatori, medici, bioinformatici, biologi, ma anche pazienti di 39 paesi in tutti i continenti del mondo e questo ha fatto fare veramente un salto di qualità per studiare, fare diagnosi, ma anche fare ricerca su queste patologie.